buongiorno siamo qui per dirvi che le radiazioni fanno male infatti ho comprato questo che pare questo oggetto e poi questo testo di terra nuova editrice questi sono gli autori questi sono alcuni dei link principali che potete legger questo è tutto per l'acquisto di oggi a risentirci prossimamente grazie 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 grazie